Buongiorno, buongiorno da Alquata del Tronto, siamo al centro del palesso scolastico Specchio dei Tempi, alle mie spalle vedete la palestra che abbiamo inaugurato nel settembre scorso e dall'altra parte c'è il blocco delle scuole, la scuola media, la scuola elementare, la scuola di infanzia che abbiamo inaugurato nel settembre di due anni fa. Siamo qui per una iniziativa nuova, un'iniziativa che vede protagonisti Specchio dei Tempi e Reale Mutua e che è pensata per le piccole imprese locali. Vogliamo dare una mano alla rinascita di tante piccole realtà che sono realtà artigianali, agricole, commerciali, molte delle quali legate al turismo che qui è la vera e propria ricchezza, il turismo che viene da Roma e che porta risorse in questi paesi dell'Appennino. Abbiamo circa 90 mila euro, abbiamo fatto un bando, le risorse vengono da Reale Mutua, Specchio dei Tempi pone in queste operazioni il suo know-how, la sua conoscenza del territorio, la sua capacità di muoversi in queste aree che non sono sempre facili e cercheremo tutti insieme nel giro di pochissimo, di un paio di mesi, di realizzare questo intervento. Ricordo che gli interessati possono trovare il bando sul sito di Specchio dei Tempi all'indirizzo www.specchiodeitempi.org